Con una delibera approvata il 24 settembre scorso, il vicepresidente di Via Berta, Cristofaro Carrino, ha approvato l'aumento dell'aliquota relativa al tributo per le funzioni di tutela e igiene dell'ambiente, il TEFA. Si tratta di un tributo che riguarda l'esercizio di specifiche funzioni amministrative ed interesse provinciale. Tra queste ci sarebbero quelle riguardanti l'organizzazione dello smaltimento dei rifiuti. Il TAFA verrà poi incassato dai singoli comuni contestualmente alla tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, latari. Sarebbe facoltà della Giunta Provinciale di determinare il tributo nella misura compresa tra l'1% e il 5% della tassa sullo smaltimento dei rifiuti solidi urbani. Già nell'ottobre del 2014, la Giunta Provinciale aveva praticato un aumento dell'aliquota della stessa imposta, portandola dal 2,50% al 3,50%. Ora, considerata l'attuale condizione finanziaria di grave difficoltà in cui si trovano ad operare gli enti locali e la conseguente necessità di incrementare le entrate correnti, per continuare a garantire il buon andamento dell'azione amministrativa dell'ente a fronte di una progressiva riduzione dei trasferimenti statali, la provincia ha ritenuto di dover aumentare, a decorrere dall'esercizio finanziario 2015, la misura dell'aliquota del tributo per le funzioni di tutela e igiene dell'ambiente. Il Tefa, nella misura dell'1,5 punti percentuali. Così facendo, la provincia di Zerne avrebbe portato l'aliquota alla percentuale massima applicabile, ovvero al 5%.